E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, mercoledì 2 ottobre, andremo a vedere Legnano Basket Knights contro Robur Saronno, area di derby. Adesso ci stiamo incamminando piano piano. E niente, io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace, un commento ed iscrivervi al canale. Io non vi dico nient'altro e ci vediamo dentro il palazzetto. Grazie a tutti Parità, passiamo una partita molto fisica. Non so se mi sentite ma stasera c'è da sudare bravo. Tiro da 3. Quasi lotta, quasi lotta. Per ogni pallone quasi lotta. Loro fanno quello che vogliono. Non so se mi sentite ma stasera c'è da sudare bravo. 2. 3. 5. 6. 6. 10. 6. 7. 8. 7. 8. 3-2-7-1 Nick, l'ultimo possesso ancora i minuti ancora per Master Gang finisce 78-75 per il Legnano grande vittoria e anche un applauso veramente ai giocatori di Saronno che ci hanno dato tanto filo da torcere io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace un commento e di iscrivervi al canale noi ci rivediamo in un prossimo video ciao a tutti